Maggiori controlli in città come in provincia fin da subito, già dal prossimo fine settimana. Una task force tra le forze dell'ordine con l'impegno anche da parte dei singoli comuni del territorio salernitano e degli stessi cittadini. Il questore di Salerno Maurizio Ficarra ha voluto tranquillizzare la popolazione sull'argomento sicurezza dopo i recenti fatti di microcriminalità e di ordine pubblico che si sono consumati negli ultimi tempi nei vicoli del centro storico come anche in vari comuni a nord e a sud del capoluogo. La presenza delle pantere della polizia, delle gazzelle dei carabinieri e degli stessi caschi bianchi oltre alla collaborazione dei cittadini può essere un deterrente secondo il questore che garantisce massimo impegno da parte degli agenti delle forze dell'ordine. Sì è capitato che specie nell'ultimo weekend abbiamo registrato alcuni episodi che ci hanno preoccupati. Fortunatamente non sono collegati tra loro e noi normalmente nei fine settimana approntiamo un servizio di prevenzione e controllo del territorio insieme alle altre forze di polizia. Adesso anche alla luce di questi avvenimenti per i quali già in qualcuno siamo intervenuti direttamente con qualche arresto fatto e per altri stiamo facendo delle investigazioni che riteniamo ci portino anche qualche risultato favorevole. Anche in virtù di questo fatto noi già anche dal prossimo fine settimana abbiamo predisposto ulteriori servizi insieme alle altre forze di polizia facendo un tavolo tecnico qui in questura e distribuendoci le zone anche del centro storico per far sì che abbiamo una copertura totale della situazione. Il presidio e la presenza possono essere un deterrente? Sì il presidio è sicuramente un deterrente. Certamente voi sapete che nel fino settimana grazie al fatto che Salerno è una bella città e è molto attrattiva nei confronti di persone che vengono anche da fuori voi avete visto come si registra un flusso di persone che vengono sia dalla provincia che anche da altre province vicine. Però nonostante queste noi cerchiamo lo stesso di penetrare all'interno del centro storico in tutte le zone facendoci vedere perché più è visibile la forza di polizia più si fa prevenzione. C'è un problema anche eventualmente di numerico, di personale perché molti cittadini hanno registrato la disponibilità delle forze dell'ordine però capiscono anche che magari non si può essere onnipresenti o magari c'è un problema di personale. Esiste questo problema? No, non è un problema. È chiaro che la razionalizzazione tocca a noi. Nel senso che noi abbiamo un numero di agenti sufficienti a coprire le esigenze della città. Certamente sarebbe bello se avessimo la possibilità in ogni quartiere di mettere un equipaggio. Questo non è possibile ma non è stato mai possibile, non sarà possibile e le forze che abbiamo e le dobbiamo distribuire in relazione al dove nascono maggiormente le esigenze. Quindi per quanto riguarda la distribuzione del personale, quelli che noi abbiamo riteniamo che siano sufficienti. Tanto è vero che fortunatamente non tutti i fine settimana si registrano gli episodi come quelli che abbiamo registrato la volta scorsa.